Ciao a tutti, io sono Frank e benvenuti sul nuovissimo video di Brawl Stars I'm only here for the trophies Allora, io adoro Brawl Stars, però il mio gioco preferito è GTA V Pronto, Brawl Stars, Forno e ci sono i miei Edgar, Luke e Spike Oh, l'ho lanciata, oh ragazzi Oh, l'ho fatta lanciata Ok, perfetto, l'abbiamo vinta ragazzi Oh, l'ho fatta lanciata Per me i Brawl Stars di tutto il mondo è posto Oh, l'ho fatta lanciata Eh, ora togliere un attimo Oh, l'ho fatta lanciata Oh, l'ho fatta lanciata Oh, l'ho fatta lanciata L'ho fatta lanciata Oh, 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 l'ho fatta lanciata ... ... ... ... ... ... ... ... Segui, ricordi, ricordi, non devo aspettare che c'è la scuola. C'è ragazza, c'è qualche componente, c'è greale, ragà, no. Io non sono tanto bravo, la metto. Io vi voglio ricordare di lasciare un like al video e di iscrivervi, per favore, e di sguardare anche il mio canale. E soprattutto per supportarmi. Non lo chiusate, ragazzi, non lo chiusate. Allora, allora. Lo chiuso, lo chiuso per fare con un discurso. Però sono tutti buoni, 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 buoni... Io vorrei. Io non ho capire. Io non ho capire, mi hanno capito. Questa, la scuola è andata. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. 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 no perché non ci credo noi ci salutiamo qui ciao ragazzi